Ciao a tutti ragazzi, io sono sempre Luisa e benvenuti in questo nuovo video. Scusate un po' le luci spettrali, ma essendo sera ho acceso una lampada e quindi ci arrangeremo così. Oggi facciamo un altro video di testimonianze, quindi leggerò dei messaggi che mi avete lasciato sul gruppo Facebook, il UU Community, e io vi invito sempre ad iscrivervi, oppure sotto all'ultimo video. Quindi iniziamo subito. Ah, vi ricordo anche che per richiedere meditazioni personalizzate potete contattarmi sia per email che appunto su Instagram e trovate tutte le info in un video apposito. Allora, ciao a tutti, ho iniziato ad applicare la legge dell'attrazione da un mese e fino ad ora ho attratto due situazioni che volevo si verificassero. La prima è stata mercoledì scorso per l'esame di abilitazione. Dovevo pescare tra 52 casi clinici e quando ripetevo il caso clinico 46 ci metteva una emozione pazzesca. Quando sono andata a pescare il numeretto è uscito il caso clinico 26, ci sono rimasta un po' male, ma in realtà era il 46 e avevano cambiato i numeri. La seconda è stata oggi. Sono andata nella mia città universitaria per comprare il cappotto per la mia laurea e per ritirare la tesi. Ho fatto tardi al centro commerciale. Erano le 12.40 e la copisteria chiudeva alle 12.30. Il mio autobus passa alle 14.30. Ho visualizzato alle 12.40, quindi poco dopo che il negozio doveva essere chiuso, che la saracinesca fosse ancora alzata e che avrei avuto la mia tesi entro alle 13.00. Arrivo lì davanti alle 12.56, saracinesca alzata ma a luci spente. Il negozio sembrava chiuso. A un certo punto vedo da dentro la proprietaria che mi viene ad aprire la porta. E' stato il momento più emozionante della giornata. Il pomeriggio la copisteria riapre alle 16.00 e quindi avrei dovuto aspettare l'autobus delle 17.45 e tornare a casa alle 19.20. Grazie universo, bellissima la precisione degli orari. Ho attratto, poi continua il messaggio e dice Altro messaggio, questo è veramente bellissimo Buonasera a tutti, oggi ho avuto proprio la conferma che qualcuno mi ascolta. Il mio piccolo Beagle, che è un cane per chi non lo sapesse, ciccione, ha un tumore alla vescica da 4 anni, però è super attivo. In questi giorni ha iniziato a fare fatica, a fare pipì e aveva male. Così prenotiamo un'ecografia per controllare. Sebbene l'ultimo controllo di 4 mesi fa fosse andato bene e ci siamo preparati al peggio, io però ero super sicura che lui stesse bene. Perfetto, vi dico solo che il tumore si è ridotto ancora di più rispetto alla visita passata e addirittura tutti e due i reni vanno a meraviglia. Io sono super felice ragazzi, magari non c'entra nulla con i nostri discorsi, però l'universo fa in modo che ciò che pensi nel cuore si verifichi fuori. E io non commento questa situazione, prima che si creino polemiche sulle guarigioni, già sapete, ecco. Io vi consiglio un libro, Placebo Effect, come lo volete pronunciare, di Joe Dispenza. Io amo quest'autore, è il mio autore preferito, dovrebbe pagarmi per tutte le volte che ho consigliato i suoi libri. E quindi chi è interessato all'argomento lo compri perché davvero è stupendo. E' bello, il bello di questo libro è che è scientifico ma anche semplice, quindi davvero è adatto a tutti. Altra testimonianza. Allora, buonasera a tutti, voglio raccontarvi quello che sono riuscita a manifestare nell'ultimo mese, a testimonianza che la legge dell'attrazione funziona davvero. Lo scorso ottobre, una sera, ho iniziato a scrivere la lista con i 101 desideri. Ho fatto un video apposito, quella di Sibaldi. E tra questi ho scritto voglio fare teatro. Poi vado a dormire, ascoltando le varie meditazioni con gli auricolari. E ad un certo punto sento un trillo nelle orecchie, come se fosse un messaggio sulle chat di Messenger. Ma ero così stanca che non ebbi neppure la forza di vedere chi fosse. Quindi continuo a dormire. Il mattino seguente, presi il cellulare, e non ci crederete, trovo un messaggio di una persona che non conosco. Alle due di notte, che così dal nulla, mi scrive Ciao, vuoi fare teatro? Adoro. Ragazzi, io sconvolta, non ci potevo credere. È da una vita che penso che mi piacerebbe fare teatro, ma non mi sono mai interessata a chiedere presso qualche scuola o corso di recitazione. E appena l'ho scritto, l'universo mi ha esaudita. È assurdo, ma succedono tutti i giorni cose del genere. Cioè, per chi pratica un po', per chi mastica un po' di legge dell'attrazione, queste cose sono all'ordine del giorno, lo saprete, insomma. E ora vi leggo anche un altro commento che lasciò una ragazza, se non ero, sull'ultimo video e lo sto andando a cercare. Allora, qui ho trovato il commento, una ragazza che scrive Riscontri che sto avendo nella realtà 3D. Premetto che come affermazioni positive su di me uso molte delle frasi che hai usato nella meditazione che hai caricato su YouTube, più alcune frasi che ho aggiunto io. Alcune frasi sono Ogni giorno sono sempre più bella e luminosa. La scorsa sera l'amica di mia cugina mi ha detto che mi vede più luminosa del solito. Io sono bellissima. Questa è un'altra affermazione. Nelle ultime settimane a recitazione, quando faccio gli esercizi davanti alla camera, i miei compagni e i miei insegnanti mi hanno fatto notare di essere bella. Io sono sempre più sicura di me stessa. Altra affermazione. Una mia amica in un audio mi ha detto che è contenta che sono sempre più sicura di me e mi apprezzo sempre di più. Io sono bravissima a recitare, miglioro sempre di più e gli altri notano i miei progressi. Altra affermazione ha causato lei, l'aggiunta. Sto migliorando lezione dopo lezione. Ok, facendo pratica si migliora sicuramente, ma da quando mi ripeto questa frase sento che miglioro di più proprio perché mi sento brava. Non so se mi sono spiegata, ti sei spiegata. Nelle ultime due settimane a lezione la mia insegnante mi ha detto che mi sono tolta alcune stranezze che avevo l'anno scorso e che sto migliorando molto. E niente, quindi il video di oggi finisce qui. Se avete qualcosa da raccontare, qualche testimonianza, i claxon, Napoli, Omar, Sol, i claxon, ecco. Le potete lasciare appunto nei commenti o su Facebook. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.